H, the mattress is too hard, hard, H-A-R-D. The room is too hot, la stanza è troppo calda, the room is too cold, la stanza è troppo fredda, the room is too noisy, la stanza è troppo rumorosa, the room is too dirty, la camera è troppo sporca. The heater, riscaldamento, the heater, oppure shower, la doccia, air conditioner, l'aria condizionata doesn't work, quindi the heater doesn't work, il riscaldamento non funziona, scritto H-E-A-T-E-R, shower, the shower doesn't work, the air conditioner doesn't work, help me please, aiutatemi per favore, no? The staff are rude and unhelpful, the staff are rude and unhelpful, lo staff è maleducato e di nessun aiuto, ovviamente non si può dire, si farebbe proprio la figura da cafoni, sottolineando che lo staff è incompetente, rude, R-U-D-E, unhelpful, U-N-H-E-L-P-F-U-L. We are very disappointed with your service, siamo molto delusi del vostro servizio, we are very disappointed with your service, to be disappointed, disappointed, D-I-S-A-P-P-O-I-N-T-E-D. I'm so sorry, I'll check immediately, mi dispiace molto, controllo immediatamente, I'll send housekeeping straight up, mando subito il servizio di pulizia. I'll send housekeeping straight up, housekeeping, H-O-U-S-E-K-E-E-P-I-N-G, straight up, S-T-R-A-I-G-H-T, e poi staccato U-U-E-P. Straight up, I'll send housekeeping straight up, le mando subito il servizio di pulizia, perché magari non vi hanno pulito la camera ancora, oppure è sporca, non so. We are very sorry, I can assure you that we are taking immediate action to remedy all the shortcomings you outlined. Siamo molto dispiaciuti, posso assicurarle che prenderemo immediati provvedimenti per rimediare a tutte le manchevolezze che lei ha sottolineato. Check out, è il momento di andare via dall'albergo. I'd like to check out, please. Mi piacerebbe fare il check out, per favore. I think there is a mistake on the bill. I think there's a mistake on the bill. Penso che ci sia un errore in questo conto. We didn't use the minibar. Non abbiamo usato il minibar. How would you like to pay? Come desidera pagare? I'll pay in cash. Pago in contanti. Oppure I'll pay by credit card. Pago con la carta di credito. I'll pay by credit card. Is there anywhere we can leave our luggage? Is there anywhere we can leave our luggage? Possiamo lasciare da qualche parte i bagagli perché magari avete fatto il check out e volete fare una passeggiata però non vi volete portare insieme il bagaglio, la valigia. Allora dite, is there anywhere we can leave our luggage? Is there anywhere we can leave our luggage, please? Can I have a receipt, please? Can I have a receipt, please? Posso avere una ricevuta, per favore? Ricevuta. Molto importante questo vocabolo. R-E-C-E-I-P-T I hope you enjoyed your stay. Spero che abbiate avuto una gradevole permanenza. I hope you enjoyed your stay. Bellissimo, è stato molto divertente questa sezione dell'albergo. Ok? Mi raccomando, continuate a studiare e seguitemi. Follow me, bye. Follow me on Spotify, follow me on YouTube channel. Putin on YouTube channel, my name and my surname, Gabriella Marturano. See you, have a nice evening. Bye.